La matematica La matematica Ma c'è questo teorema di Talete E che cos'è che Talete ha iniziato? Beh Talete come molti di noi Amava andare in vacanza Molti saranno appena tornati dalle vacanze E fece una gita Prossima slide A Giza Dove molti di voi saranno stati Tra l'altro nel corso della loro vita Qui ci sono tre piramidi Ci andò verso il meno 600 Io sono un matematico Gli anni li calcolo in questo modo Anche per evitare riferimenti impropri Che non mi piacciono Quindi verso il meno 600 Andò in Egitto a fare questa gita E naturalmente queste piramidi Erano state costruite molto tempo prima Verso il meno 3000 Quindi erano passati millenni addirittura Non soltanto anni E la gente aveva perso Tra l'altro la cognizione Di come si fossero costruite queste piramidi E chiesero a Talete E diceva Quanto saranno alte queste piramidi Notate che dal di fuori Misurare le piramidi non è difficile Quindi fare una domanda Tipo quanto saranno larghe Come lato queste piramidi Sarebbe stato un insulto ovviamente Basta misurare E non c'è problema Sapere per esempio la pendenza Cioè qual è la distanza Tra la punta della piramide E il lato di nuovo Basta misurarlo Ma l'altezza Come si fa a misurare l'altezza di una piramide? Bisognerebbe esserci dentro E questo non si può fare Ovviamente Peralo meno non si poteva fare allora E adesso la conservazione Le belle arti non ci impedirebbero di fare E Talete pensò semplicemente E questo è quello che fanno i matematici E spesso quando ci riescono Pensò e trovò la soluzione del problema Io non ve la dico per le piramidi Perché è un po' complicata La posso dire per gli obelischi Gli obelischi sono simili Naturalmente le piramidi Sono un po' più stretti Naturalmente Sono dei grandi monumenti Molti li avranno visti Anche perché gli occidentali Se li sono fregati tutti Noi li hanno portati nelle piazze Delle nostre città E come si fa a misurare L'altezza di un obelisco Beh certo ci si può arrampicare sopra Tirare giù una corda Eccetera Ma usando il cervello Beh Talete capì Che era abbastanza semplice In pratica basta piantare un bastone Oppure essere semplicemente Piantati sul terreno Guardare l'ombra Che si fa sul terreno Che fa questo bastone sul terreno Guardare l'ombra Che fa l'obelisco E poi sapere Accorgersi che in realtà Ci sono due triangoli Uno è il triangolo Formato dal bastone E dall'ombra E l'altro è il triangolo Formato dall'obelisco E dall'ombra Del triangolo piccolo Si conosce tutto Si conosce l'altezza E l'ombra Del triangolo grande Si conosce solo l'ombra Però si fanno i triangoli simili Il teorema di Talete È precisamente Il teorema che ci dice Che nei triangoli simili I lati corrispondenti Sono proporzionali Fra di loro Quindi quando si hanno due triangoli simili Se si conoscono i lati di uno E si conosce un lato dell'altro Si può ottenere Anche il lato sconosciuto Vi lascio naturalmente La domanda Come si fa a calcolare L'altezza della piramide Perché è una cosa un po' più complicata L'ombra Una parte della piramide Dell'ombra della piramide Sta dentro la piramide Quindi lì bisogna giocare Un pochettino meglio E naturalmente Talete lo fece E divenne famoso Beh da quel momento Il motivo Uno dei motivi Il motivo principale Per studiare la matematica E per svilupparla È stato risolvere problemi Di questo genere Questo signore Non è più Talete Naturalmente E Galileo Galilei Che molti di voi Conosceranno Lo scorso anno Era il quattrocentesimo anniversario Delle osservazioni E allora E allora Questo è il motivo Per cui Queste sono le Tra l'altro I pangeli Che Galileo fece Quando cominciò a guardare La luna Col cannocchiale Dicevo Questo è il motivo Il primo motivo La prima risposta A Ken Robinson Perché si insegna la matematica E non la danza Perché la matematica Serve per rispondere A queste domande Naturalmente Poi la storia È andata molto avanti Il prossimo personaggio Che vedrete Lo conoscete tutti È Albert Einstein E' un po' la fine O meglio Di un periodo Comunque Il punto di arrivo Di questo sviluppo Della matematica Come linguaggio Della scienza Ma questa era Solo la prima storia Ci sono altre motivazioni Cosa rimane Oltre la motivazione Utilitaristica Alla matematica Beh Vediamo Una seconda storia Questo potrebbe essere Di nuota letta Naturalmente Perché sono tutti uguali Questi antichi greci Però Dicolo che invece Sia Pitagora Pitagora anche lui Naturalmente Grandissimo Matematico Tutti ricorderete Del teorema di Pitagora Che adesso canteremo In coro Tutti insieme Perché ce lo ricordiamo Fin dalle elementari Poi naturalmente Tutti insieme Diremo la dimostrazione Del teorema di Pitagora Questo sarebbe più divertente No Fabio Però qui vi vorrei raccontare Una storia legata A Pitagora Un po' differente Perché Pitagora Ebbe un'intuizione Ancora più grande Ancora più maestosa Di quella di Talete Usare la matematica Non soltanto A fini utilitaristici Come linguaggio della scienza Ma addirittura A fini metafisici Andare oltre l'universo Cioè costruire una filosofia Basata sulla matematica La storia legata a Pitagora È una storia che racconta Giamblico Come è probabile Naturalmente non è mai successa Però si dice che Pitagora Che stava a Crotone Dopo essere andato in esilio Da Samo Aveva una scuola Sapete come sono i filosofi No? Le scuole dei filosofi Sono come le comete Una testa brillante Seguita da una coda Di detriti No? E allora E quello succede No? Pitagora passeggiava Per le strade di Crotone No? Testa brillante Con tutti gli studenti dietro Passano davanti Alla bottega Di un fabbro ferraio E sentono dei rumori Perché certi I filosofi passeggiano Però insomma Dentro le botteghe C'è gente che lavora Per permettere a loro Di non fare nulla E allora sentono dei rumori E escono Ovviamente Dai martegli E dalle incudini A volte questi rumori Danno fastidio All'orecchio sensibile Di filosofi Stridono fra loro Sono quello che noi Chiameremo dissonanti Altre volte invece Vanno bene insieme No? E noi li chiameremo Consonanti E allora Pitagora Entra dentro la bottega Del fabbro ferraio E comincia a fare Degli esperimenti Il primo esperimento È l'esperimento Che poteva fare un filosofo Prende due martelli uguali Li batte sull'incudine Si accorge che i suoni Che vengono fuori Sono uguali Vabbè certo Era ovvio Cioè per quello Bastava il filosofo Ma poi naturalmente Ci voleva il matematico Per fare gli altri esperimenti Prende due martelli Uno dei quali È il doppio dell'altro E l'altro la metà di uno Batte questi due martelli Sull'incudine E si accorge Di una cosa interessante I suoni La nota È sempre la stessa Ma l'altezza è diversa Cioè sono a distanza I musicisti Chiamerebbero di un'ottava Poi fa altri esperimenti Prende per esempio Un martello Che è una volta e mezzo Di quell'altro Rapporto 3 a 2 Batte sulle cudine Si accorge che I suoni sono diversi Ma l'intervallo È un intervallo riconoscibile È l'intervallo di quinta Come lo chiamerebbero I musicisti Do Sol Per esempio L'intervallo di ottava Era do 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 superiore O do inferiore E allora si accorge di che cosa E qui arriva per l'appunto L'idea di Pitagora Si accorge che questi numeri Due su uno Tre su due E così via Che sono semplicemente Dei numeri Delle frazioni Delle frazioni Dei rapporti Razionali Come li chiamavano I greci Permettano Di descrivere Due cose diverse Da una parte I pesi dei martelli Ma tante altre cose Naturalmente La lunghezza Delle coro Delle proporzioni Della natura E dall'altra parte Però Gli intervalli musicali Cioè due mondi Che a prima vista Sono assolutamente Incompatibili Fra di loro Il mondo della natura La fisica Per l'appunto Che è quello di cui Parlavamo prima Contalete E dall'altra parte Invece La musica Ma ricordate Che per i greci Musiche Era tutto ciò Che era protetto Dalle muse Quindi le arti E allora la matematica Diventa in realtà Un ponte di collegamento Fra lo studio Della natura Da una parte E lo studio Delle arti In particolare Della musica Dall'altra Diventa veramente Un linguaggio universale In un senso Ancora più generale Di quello che Galileo Ci avrebbe poi detto Molti secoli dopo Nel saggiatore E questa è l'idea L'idea di Pitagora Che tutto è numero Nel mondo Tutto è numero Razionale Gli interi E i loro rapporti Poi ci si dimentica Del numero E il motto diventa Tutto è razionale Di lì comincia In qualche modo La filosofia Del razionalismo Cercare di capire Con la ragione L'essenza del mondo E questa essenza Va naturalmente Qui nella natura Questa è La famosa sezione aurea La spirale aurea Che si ritrova Nel Nautilus Più o meno Ma ci sono altre cose Che si possono vedere Nella natura Pitagora incomincia a capire Che non soltanto La musica Che si può suonare Con gli strumenti musicali Ma la musica Delle sfere L'astronomia può essere Descritta dalla matematica E in effetti La matematica Da quel momento E poi per Praticamente Duemila anni Sarà il linguaggio Che collega La teoria Da una parte E l'astronomia E dall'altra Credo che la prossima slide Dovrebbe essere L'immagine Di un signore Che qualcuno di voi Conoscerà Questo è Keplero Keplero Che scrive All'inizio del Seicento Un libro che si intitola L'armonia del mondo Notate come per descrivere Le leggi della natura Le famose tre leggi Che lui scoprì E che furono poi La base Per il sistema Newtoniano Della gravitazione Lui usa una metafora Che è una metafora Pitagorica L'armonia della natura La musica Delle sfere E questa è La seconda storia Per l'appunto Il secondo motivo Per cui si studia E si insegna La matematica Non solo perché è utile Per descrivere la natura Ma perché in realtà È la base Di una filosofia Che è la filosofia Razionalistica Quella che pensa Che attraverso la ragione Attraverso i rapporti In particolare numerici Ma non soltanto Armonici E più in generale Appunto La commensurabilità Delle idee Si può arrivare A capire il mondo Ma c'è Un terzo motivo Per studiarla Ed è L'ultima Delle storie Che vi racconto Questo signore Lo riconoscerete La scuola di Atene Di Raffaello Nelle stanze vaticane Questo signore È Euclide Euclide che sta disegnando Con il compasso Qualche cosa Su una lavagnetta Euclide è un po' successivo Ai due personaggi Di cui abbiamo parlato Poco fa Perché Disse Ammesso che sia mai vissuto Perché di Euclide Si sa pochissimo C'è soltanto la sua opera Ora voi direte Non è poco Sì ma non si sa Chi è che ha scritto Quest'opera Quindi potrebbe anche Non essere mai esistito Ma l'opera c'è Si chiama Gli elementi Di matematica Appunto Che vengono attribuiti Ad Euclide Sono di circa Il mero 300 Poco dopo Che Alessandro Che è stato citato Qualche tempo fa Fece la sua Impresa leggendaria Andò fino alle Indie Però Andando verso le Indie Prima Passò in Egitto Fondò la città Di Alessandria Poi la lasciò Naturalmente In eredità Ai Ptolomei E Euclide Visse più o meno In quel periodo Che cosa c'è In quest'opera Di Euclide Beh anzitutto C'è un monumento Veramente Alla matematica In particolare Ma al pensiero Razionale Più in generale Un libro L'unico libro Che abbia potuto Competere fino ad oggi Con la Bibbia I due libri Fondamentali Per lo meno Per il pensiero occidentale Sono proprio questi Un testo che fino Allo scorso secco Fino all'ottocento Alla fine dell'ottocento Agli inizi del novecento Veniva ancora usato Come libro di testo Ebbene Qual è la caratteristica Del libro di Euclide E' quella che In realtà Raffaello ci ha fatto vedere Euclide ce lo rappresenta Attraverso Un compasso L'idea Di disegnare Di fare Una geometria Che si potesse fare Tutta attraverso L'uso di due Soli strumenti La riga Per l'appunto Per tirare delle rette O dei segmenti Di rette E il compasso Per tirare dei cerchi O degli archi Di cerchi Da dove arriva Questa fissazione Arriva da un altro filosofo Da Platone Quindi un po' precedente Meno 400 E Platone In un suo dialogo Non uno dei più importanti Nel filevo Aveva proprio detto questo Che in realtà Quando noi cerchiamo Di rappresentare La natura Stiamo facendo Voi sapete La teoria delle idee Secondo lui La vera realtà Era quella che stava Nell'iperuragno Quella che c'è qui E' soltanto Un riflesso Una proiezione Di quella che sta lassù Le vere realtà Sono le idee E gli oggetti Del mondo sensibile Sono delle proiezioni Di queste idee Ebbene L'arte che cosa fa? Se l'arte È raffigurativa Fa un simulacro Di un simulacro Diceva lui In realtà ci sono le idee Ci sono gli oggetti E poi addirittura Ci sono le rappresentazioni Degli oggetti Platone ci dice Nel filevo Questa non è arte Che valga la pena Di seguire L'arte figurativa Dovremmo in qualche modo Buttarla via Dovremmo soltanto fare Arte di questo genere Naturalmente lui Non pensava a questi quadri Però pensava A strumenti Come quello che ho detto prima La riga E il compasso Ora fissarsi Su questi due soli strumenti Significa fare Disegno geometrico Tanto per cominciare E tutti coloro Che sono andati a scuola Che hanno fatto il liceo Gli istituti tecnici Eccetera Si saranno esercitati Con la riga Ed il compasso Il disegno geometrico È la base Del disegno Ma è anche la base Dell'arte moderna Perché come vedete qui Questo Mondrian Naturalmente E poi ci saranno Dei candischi Eccetera L'arte moderna In fondo È la realizzazione Di questo sogno platonico Di fare un'arte Che non sia Arte rappresentativa Che non rappresenti Le povere forme Del nostro mondo Cioè animali Pesci Piante Uccelli Uomini E così via Bensì rappresenti Quello che si potrebbe immaginare Siano le idee Notate che c'è anche Per chi fosse religioso Un comandamento Un comandamento Che ci forza A fare questo Il secondo comandamento Che naturalmente Noi ci siamo dimenticati Perché ad un certo punto Non faceva più comodo Raccontarlo E divulgarlo Il secondo comandamento Dice Non ti farai immagini Di cose viventi In cielo In terra E nell'acqua Cioè c'è una proibizione Biblica addirittura Per l'arte figurativa È chiaro che è meglio Dimenticarselo Questo comandamento Perché altrimenti Bisognerebbe chiudere I musei Le chiese soprattutto Che sono piene Di raffigurazioni Di questo genere Ma coloro che i comandamenti Li prendono seriamente Perlomeno formalmente Ad esempio gli ebrei O gli arabi E questo è interessante Non i cristiani Beh Negli arabi Negli ebrei Hanno un'arte raffigurativa Se voi andate alla Lambra Per esempio Se visitate una sinagoga O se visitate una moschea Vi accorgete Che le uniche raffigurazioni Non sono proprio così Magari inventive E così colorite Però sono raffigurazioni Per l'appunto geometriche Puramente astratte E questo è il terzo motivo Per studiare la matematica E per divulgarla Perché è il linguaggio Dell'arte astratta Dell'arte non figurativa Dell'arte che in fondo Però è anche il punto di arrivo O perlomeno uno Dei punti di arrivo Della storia dell'arte occidentale Perché dopo essere passato Attraverso tutte queste raffigurazioni Ad un certo punto L'arte ha cominciato a dissolversi Pensate alla fine dell'Ottocento L'impressionismo Che incomincia a sfuocare Le sue raffigurazioni Il cubismo Che incomincia a descrivere Le cose Soltanto attraverso Come dice la parola Per l'appunto Cubi Cioè soltanto attraverso segmenti E alla fine Sulla tela Rimane soltanto più L'oggetto matematico Questo è un candisti In cui vedete Per l'appunto Ci sono soltanto Cerchi Triangoli Quadrati Che cosa sono queste cose? Beh Sono esattamente I caratteri Che Galileo diceva Sono i caratteri Della lingua In cui è scritto Il libro della natura Ecco Queste sono le tre storie Che ho raccontato Talete L'uso della matematica Per fini scientifici Pitagora L'uso della matematica Per fini filosofici Metafisici E Euclide L'uso della matematica A fini artistici Credo che Nessuna Delle discipline Che l'uomo Ha sviluppato Nel corso Della sua cultura Della sua civiltà Abbia questa possibilità Di poter intervenire Su tutti e tre Questi campi E questa è la risposta A Ken Robinson Perché si studia La matematica E non la danza Nelle scuole Grazie E' la nostra Grazie